Nuovo caso di meningita all'ospedale San Donato di Arezzo. Ad essere ricoverata è una bambina dell'alto casentino di 11 anni a provocare la malattia è stato lo pneumococco. La bimba è arrivata a mercoledì con un forte mal di testa all'ospedale di Bibbiena. I medici dell'unità operativa complessa di pediatria dell'ospedale San Donato hanno rapidamente diagnosticato la patologia provvedendo all'immediato ricovero e all'abbio delle cure del caso. Subito inviato il prelievo al laboratorio di immunologia del Meyer di Firenze per identificare il tipo di meningite che risultato essere appunto lo pneumococco. La bambina che non aveva completato il ciclo di vaccinazioni raccomandate dalla regione toscana era in questi giorni affetta da otite. Si sospetta che l'infezione sia passata alle meningi. La piccola sta reagendo bene alla terapia antibiotica che le viene somministrata. In questo caso, come indicato dal Ministero della Salute, non si interviene con la profilassia antibiotica per chi è stato in contatto con la piccola, poiché non si verificano focolai epidemici. Lo pneumococco è la gente più comune di malattia batterica invasiva e si trasmette per via respiratoria. Lo stato di portatore è assolutamente comune, esistono più di 90 tipi diversi di pneumococco. L'azienda sanitaria Asla Toscana Sud-Est rinnova l'appello alle vaccinazioni raccomandate dal calendario della regione toscana. Per ulteriori informazioni, le famiglie ricorda l'Asla si devono rivolgere al pediatra che è in carico il bambino.